Oroscopo del giorno, venerdì 17 febbraio 2023 Ariete Amore, la posizione di Venere continuerà ad essere purtroppo sfavorevole per voi e per i vostri rapporti. Sia per le relazioni che per i single non sarà un venerdì molto fortunato. Lavoro Mercurio è in buona posizione, riuscirà a sostenere il vostro lavoro, i vostri progetti professionali. Toro Amore Il pianeta dell'amore sarà in buonissimo aspetto per la giornata di oggi. La posizione attiva di Venere riuscirà a farvi stare bene con il partner e le nuove conoscenze potrebbero essere interessanti per i single. Lavoro Bisognerà fare un po' di attenzione al transito sfavorevole di Mercurio. Ci saranno degli ostacoli sul lavoro. Gemelli Amore Ancora una volta avrete delle difficoltà amorose per via di Venere che sarà in una posizione contraria. Con il partner potrebbero esserci complicazioni. Difficoltà anche per le nuove conoscenze dei single. Lavoro Tutto andrà molto bene a livello professionale, con delle stelle che saranno completamente in vostro favore. Cancro Amore Amore La posizione di Venere per questa giornata non sarà proprio il massimo. Per quest'oggi infatti potrebbero esserci dei problemini, delle tensioni da dover affrontare in amore. Lavoro Le stelle dovrebbero favorire il vostro lavoro, quindi voi cercate di impegnarvi perché i risultati difficilmente mancheranno oggi. Leone Amore La giornata odierna potrebbe portare alcuni problemi, soprattutto determinate discussioni. In particolar modo chi ha già avuto degli intoppi sentimentali potrebbe soffrire maggiormente. Lavoro Mercurio continuerà ad essere in opposizione per voi. Un venerdì di febbraio piuttosto teso per il lavoro. Vergine Amore Una nuova giornata è una nuova posizione opposta di Venere per voi. Con il partner o con una conoscenza tutta nuova, non ci saranno delle buone nuove in amore. Le emozioni potrebbero avere un periodo difficile. Lavoro Marte sarà nuovamente sfavorevole per voi, soprattutto se ultimamente gli impegni sono aumentati. Ti sarà stanchezza e stress. Bilancia Amore Potrete continuare a godere e vivere delle emozioni speciali che saranno sul vostro cammino. Venere sarà in buona posizione e potrà sostenere bene sia i single che chi è già in coppia. Lavoro I compiti e gli impegni di lavoro non vi porteranno in topi. Tutto dovrebbe filare in modo abbastanza liscio. Scorpione Amore Oggi potrete continuare ad avere una buona posizione di Venere dalla vostra parte. Il venerdì sarà ricco di emozioni e di sentimenti. E questo porterà delle situazioni decisamente favorevoli e piacevoli in amore, per tutti. Lavoro Mercurio in questo venerdì di febbraio non agirà affatto per voi. Vi volterà direttamente le spalle, purtroppo. Sagittario Amore Pronteggiare questo aspetto ancora negativo del pianeta dell'amore potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Occhio ai rapporti personali o sentimentali. Lavoro Per fortuna le cose andranno bene sul lavoro. Chissà che non riusciate a fare un passo in avanti un po' più importante. Capricorno Amore Potrebbe essere un venerdì di febbraio decisamente fortunato in amore. Sia con il partner e sia per i single e le loro nuove conoscenze potrebbero arrivare buone nuove grazie alla posizione favorevole di Venere. Lavoro Il venerdì del mese in corso sarà sfavorevole per l'amore, perché Venere non sarà ancora in una posizione attiva per voi. Potreste fare un po' di fatica in più all'interno dei rapporti, non per forza di coppia. Lavoro Giove e Mercurio vi permetteranno di poter contare sul favore loro per poter sperare in novità lavorative particolarmente interessanti. Pesci Amore L'amore non vi mancherà. Venere riuscirà a favorire i sentimenti per tutti, sia per chi è in coppia con il partner e sia per chi non ha ancora trovato la persona giusta da avere al suo fianco. Lavoro Potrebbero esserci poche gratificazioni professionali. Un venerdì che non vi regalerà grandi cose sul posto di lavoro. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti i nostri amici.